Rientrano in azienda i dipendenti della Beco, si torna a lavoro dopo un'ora di sciopero davanti allo stabilimento centrale di Fabriano. A una settimana dall'annuncio dei 718 esuberi in Italia, ogni turno è un turno in bilico. Le famiglie che vivono grazie a questa fabbrica sono tante, non solo operai ma anche amministrativi, colletti bianchi che incrociano le braccia, madri, padri che vedono il proprio futuro incerto e il presente che si sgretola sotto il peso di una crisi che non hanno causato. All'età mia ritrovare un altro lavoro sicuramente non è facile, poi qua bisogna prendere le valigie e partire. Che lavoro qui è 33 anni, in Beco d'aprile che ci ha acquisito, ci ha acquisito per svenderci. Chiaramente dobbiamo rimanere un po' tutti uniti e cercare di, data la situazione abbastanza grave rispetto alle altre che magari si è vissuta in passato, ci sia qualcosa di concreto. Su 474 impiegati attivi potrebbero esserne a rischio 300, a cui se ne aggiungono altri 60 dello stabilimento di Melano. Non un grido, non uno slogan, ma una vera richiesta di aiuto tra le bandiere dei sindacati FIM, FIOM e WILM, delle sedi impiegatizie di Fabriano. C'è una golden power che queste prescrizioni vengono applicate, che le istituzioni mettono in campo tutte le operazioni che possono fare a sostegno della lotta delle lavoratrici e dei lavoratori che anche oggi dimostrano di essere pronti a fare la loro parte. Intanto le istituzioni continuano a raccontare il dramma di territori che si spopolano quando il lavoro si perde. Un rischio che a Fabriano si sente forte. Lo dicono i sindaci che in prima fila guardano negli occhi tanti operai, ma anche altrettanti amministrativi e dipendenti. L'attesa è per il tavolo al Ministero il prossimo 10 dicembre. Siamo in attesa dell'incontro del 10 dicembre, speriamo di poter portare buone notizie.